Proteggere la tua casa da ospiti indesiderati mette a rischio la vita del tuo amico peloso. Spesso, quando si tratta di eliminare i topi, optiamo per veleni che possono sembrare una soluzione facile e veloce. Ma cosa accade quando il nostro pet entra in contatto con questi pericolosi veleni? Il veleno per topi contiene sostanze tossiche che potrebbero essere assunte accidentalmente da altri animali, causando danni interni, emorragie e portare alla morte del nostro adorato pet se non si interviene per tempo. Questa è una situazione troppo pericolosa per essere sottovalutata. La prevenzione è la chiave. Evitate l'uso di veleno per topi in casa o in giardino, soprattutto se avete animali domestici. Optate invece per metodi di dissuasione ecologici e sicuri. Se sospetti che il tuo animale abbia ingerito veleno per topi, regati immediatamente in clinica. I nostri medici veterinari possono aiutarlo. Ma solo un intervento tempestivo può salvare la vita al tuo amico peloso.